Secondo l'analisi condotta dalla Coldiretti, basata sui dati sul commercio al dettaglio dell'Istat nel 2023, le famiglie italiane hanno registrato un aumento del 5,8% nelle spese alimentari, mentre gli agricoltori continuano ad essere sottopagati per i loro prodotti, i cui prezzi aumentano notevolmente lungo la filiera dalla produzione al consumatore finale. Le discrepanze lungo la filiera alimentare sono evidenti in Italia, come sottolineato dalla Coldiretti stessa, ad esempio dal grano al pane il prezzo aumenta fino a 20 volte. Considerando che per produrre un chilo di pane sono necessari circa un chilo di grano, da cui si ottengono 800 grammi di farina, la forbice dei prezzi si allarga in modo significativo. Attualmente un chilo di grano viene pagato agli agricoltori intorno ai 24 centesimi, ma il pane viene venduto ai consumatori a prezzi che variano dai 3 ai 5 euro a seconda delle città. Anagalmente le distorsioni sono evidenti anche nei prodotti freschi, come l'ortofrutta, dove il prezzo aumenta da 3 a 5 volte dai campi agli scaffali dei supermercati, nonostante non subiscono trasformazioni significative dal campo alla tavola. Inoltre il latte acquistato direttamente dagli allevatori a 0,50 centesimi al litro viene venduto a quasi 2 euro sugli scaffali dei supermercati. Per contrastare queste distorsioni è stato approvato un decreto legislativo in attuazione della Direttiva dell'Unione Europea sulle pratiche commerciali sleali. La normativa prevede il divieto di 16 pratiche sleali, tra cui modifiche unilaterali dei contratti, vendite sotto costo e pagamenti non connessi alle vendite. Inoltre stabilisce che i prezzi riconosciuti agli agricoltori non devono essere inferiori ai costi di produzione. La Col di Retti è stata una sostenitrice attiva di questa normativa e ha già ottenuto un primo risultato positivo, con l'individuazione di violazioni da parte della multinazionale francese Lactalis nei contratti con gli allevatori italiani per il latte. Quest'azione è solo l'inizio di una lunga battaglia per garantire un reddito eco alle imprese agricole. Il presidente della Col di Retti, Ettore Prandini, ha dichiarato che la lotta continuerà su tutte le filiere agricole per contrastare pratiche sleali e garantire il rispetto dei prezzi minimi. La Col di Retti, infatti, offre un supporto importante agli agricoltori nel denunciare eventuali illeciti, garantendo l'anonimato e offrendo un maggiore potere contrattuale e una maggiore sicurezza.